Fin dal primo momento, chi entra qui avverte un'energia. È l'impegno ad affrontare le sfide che si tramanda da generazioni. Il desiderio di dare il meglio di sé che per tutti diventa un percorso di crescita. Ma oggi vogliamo fare qualcosa di più. Oggi abbiamo un progetto più ampio, che si esprime in ogni istante di vita dell'università. E ci coinvolge tutti, senza eccezioni. Vogliamo investire sempre più sui giovani, per formarli a una nuova responsabilità. Vogliamo arricchire i luoghi dello studio per allargare i nostri e i loro orizzonti. Ci impegniamo a dare sempre più opportunità al merito, superando le disparità. Perché siamo convinti che si può contribuire a migliorare la società, laurea dopo laurea. E per questo continueremo sempre più a chiamare a raccolta i migliori talenti da tutto il mondo. Perché vogliamo garantire a ognuno le migliori opportunità. Ma soprattutto vogliamo stringere un patto tra generazioni, dove chi ha studiato qui sostiene chi studia ora. Chi ha costruito il presente aiuta i giovani a costruire il futuro. Aiutateci a portare a termine questo disegno. Perché, se saremo insieme, noi e voi, costruire una nuova idea di futuro attraverso i giovani è una sfida possibile.